Hai 500 euro e devi comprare una nuova tv, non sai a dove cominciare e quindi hai aperto questo video dove ti andrò ad elencare 5 tv che ho selezionato, il cui rapporto tra prezzo e prestazioni è davvero ottimo e che soprattutto costano tutte 500 euro o meno. Mi riferisco a tv che hanno una dimensione compresa tra i 43 e i 50 pollici. Sappiamo benissimo che più saliamo di diagonale più il prezzo aumenta per ogni tv ti dico non solo i pregi ma anche alcune criticità che dovresti tenere in considerazione. Prima di iniziare, alcuni accorgimenti, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina delle notifiche in questo modo io posso portarti sempre maggiori contenuti e tu non te ne perderai neanche uno per i tuoi acquisti. Dopodiché seguimi sul mio canale Telegram dedicato alle offerte e infine in descrizione trovi il link dove ci sono tutti i tv citati in questo video. Link che si aggiorna e che includerà eventualmente altri modelli che arriveranno sul mercato più avanti. Se hai domande fammelo qui sotto nei commenti perché tanto rispondo sempre a tutti. Iniziamo subito con il primo modello che abbiamo anche recensito qui sul canale, il Nokia 4300B. Si tratta di una tv entry level. Il modello da 43 pollici con risoluzione in 4K è disponibile a 399€. Illuminazione Edge LED, nulla di fantasmagorico. Ha però risoluzione in 4K, supporta sia il Dolby Atmos che il DTS e soprattutto è l'unico televisore economico a venire offerto con un telecomando con i tasti retroilluminato. Una chicca davvero utile soprattutto per le persone più anziane o che hanno difficoltà di vista. Si può acquistare fino a dimensioni di 75 pollici, quindi ce n'è per tutti i gusti. Ovviamente con i 75 pollici andiamo ad avere un prezzo decisamente più alto. Quali sono però le criticità? Beh, prima di tutto angoli di visione. La retroilluminazione è di tipo Edge LED. Software è Android TV ma il processore non è proprio all'altezza e quindi in alcune operazioni potrebbe risultare un po' lento nei caricamenti. License A78GQ è un modello arrivato proprio nel 2021. Uno tra i migliori per quanto riguarda qualità prezzo è disponibile a 50 pollici a 499 euro ma esiste anche in dimensioni superiori fino a 75 pollici. Pannello QLED, quindi elevato contrasto e ottimi colori. Se non sai cos'è il QLED ti lascio un video che ho realizzato qui sopra nella i in alto alla tua destra. Ma soprattutto è compatibile sia con HDR che con Dolby Vision. Il televisore supporta appieno sia Amazon che Google Assistant che sono proprio integrati all'interno della TV e quindi potete regolare il volume, cambiare canale, aprire un'applicazione o chiedere perché no le informazioni meteo. E infine l'ultimo aggiornamento di Vida 5.0 che è il sistema operativo di questa TV. Non solo è molto snello e veloce perché è proprietario ma soprattutto ha portato anche la compatibilità all'applicazione Disney+. Tuttavia rimangono ancora esclusi alcuni servizi come Nano TV e il pannello a tecnologia IPS quindi in alcuni contesti i colori potrebbero sembrare un po' slavati. Passiamo al successivo ovvero l'LG Nano 80 disponibile con un prezzo di 499 euro per il modello da 50 pollici ma anche in questo caso è disponibile fino a 75 pollici. Uno dei grossi pregi è l'LG WebOS, sistema operativo proprietario che però offre tutte le compatibilità del caso quindi potete utilizzare qualsiasi applicazione ma soprattutto è molto molto veloce e snello. Uno dei miei preferiti quando si parla di smart TV. Compatibile con HDR10 Pro la tecnologia Nano Cell che è praticamente uguale alla QLED offre tra l'altro dei bellissimi colori con una definizione non da poco. Ci sono alcune cose da considerare? Certo, non è compatibile né con il Dolby Atmos né con il DTS Audio quindi il sistema audio è un po' sottotono, due altoparlanti da 10 watt appena sufficienti per una piccola stanza. Dopodiché non ha alcuna HDMI 2.1 e il pannello anche in questo caso è di tecnologia IPS, una fil rouge dei televisori sotto questa fascia di prezzo proprio perché il pannello IPS comunque è più economico rispetto a pannelli VA. Uno dei best buy assoluti è senza ombra di dubbio il TCL C72 anche in questo caso disponibile in variante da 43 pollici a 449 euro ma si arriva fino a tagli da 75 pollici. Il pannello è di tipo QLED e soprattutto una retroilluminazione di tipo local dimming quindi una fedeltà di riproduzione anche delle zone più scure più fedele rispetto agli altri competitor. C'è l'HDMI 2.1 ed è l'unico in questa fascia di prezzo a presentarla ma è limitato comunque a 60 Hz ma è comunque compatibile con e-arc e auto low latency mode oltre che alla frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 60 Hz. Un po' limitata ma dopo tutto le console ancora non raggiungono i 120 Hz in 4K. Infine l'audio è davvero molto buono realizzato in collaborazione con Oncchio azienda che non ha bisogno di presentazioni ed è compatibile con i Dolby Atmos. Tuttavia sebbene ci sia l'HDR 10 non c'è la compatibilità con i Dolby Vision praticamente come i televisori di Samsung e il sistema operativo Android TV 9.0 a tratti potrebbe risultare un po' legnoso e un po' lento. Infine lo Sharp Aquos DN6E è disponibile fino al taglio da 70 pollici e costa leggermente di più di 500 euro 529 euro anche se si trova qualche offerta 509-520 euro. È molto buono e ve lo consiglio per alcuni semplici motivi. Innanzitutto supporta sia l'HDR che il Dolby Vision quindi piena compatibilità con tutti i contenuti e le maggiori piattaforme di streaming. Non solo lato audio, l'impianto audio realizzato in collaborazione con Armand Kardon è compatibile sia con il DTS Audio sia con il Dolby Atmos. Quindi nessun problema anche collegare impianti un po' più evoluti. Infine ha Android TV 9.0 e in questo caso abbiamo una buona fruibilità del sistema con ovviamente la compatibilità piena a Google Assistant ma anche ad Alexa e a tutte le applicazioni di streaming. Infine una piccola critica, le HDMI sono in tipo 2.0 però ce ne sono ben 4 quindi possiamo collegare tantissimi dispositivi e l'unica tecnologia supportata per quanto riguarda il gaming è l'autorolatency mode. Quindi la modalità abbassa latenza che abbassa il tempo di risposta in modo da non avere nessun lag o ritardo mentre si gioca. Come vi ho detto tutti i televisori li trovate qui sotto nella descrizione. Se avete altre richieste particolari o vorreste vedere guide su altre tipologie di TV fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!